Questa mattina presso la Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo è stata presentata l'operazione denominata Mare Sicuro 2015, la quale ha lo scopo di fornire un'adeguata risposta alle crescenti esigenze dell'utenza del mare e garantire la sicurezza dei tantissimi bagnanti che affolleranno le nostre spiagge. L'organizzazione del Mare Sicuro viene svolta in due fasi, una prima fase che vede l'attività di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione di tutti gli operatori e una seconda fase che invece è proprio quella più operativa che vede l'impiego dei mezzi sia nautici che le pattuglie a terra che quotidianamente soprattutto nei fini di settimana a cavallo dei weekend ma a cavallo di ferragosto ci vedranno impegnati al massimo. Essendo noi responsabili del corretto svolgimento dell'attività di soccorso possiamo dare e ovviamente dobbiamo interagire eventualmente con i bagnini che intervengono e dare le indicazioni corrette affinché tutto si risolva positivamente. Il numero blu che è il 1530 ci aiuta tantissimo nello svolgimento delle operazioni di soccorso perché ci consente di agire con tempestività che è di fondamentale importanza nell'espletamento dell'attività di soccorso.